...di anni di investimento, bisogna parlare però anche di fronte al ministro di ragazzi le infrastrutture sono fondamentali e spesso le infrastrutture o non ci sono, o non sono sufficienti, o c'è un'assenza di fondi per riuscire a risfrutturarle e le ammoglie reali che cosa vede in generale? Buonasera a tutti, riguardo alle infrastrutture, la base di questa è una importantissima esperienza come in generale a risposta, come in generale in maniera organizzata.